Andando, Gianni non ho capito perché non c'è una bottigliata, qui c'è il bicchiere per lo champagne che sostituisce l'acqua, qui c'è il vino della nostra vigna, ma c'è due bicchieri stereo, estereofonico, ti stai preparando, e vai, ti ritiri di lì, questo ti ritiri di lì, mettiti una parte. Io posso bere solo l'acqua perché sono a Stemio Lupin, posso bere?